Il centro storico va riqualificato migliorando nella circolazione veicolare e incentivando i cittadini a frequentare il salotto buono della città. Accorgimenti non modifiche alla ZTL in atto dallo scorso 11 gennaio in centro storico con una piazza pedonalizzata e più aree di sossa disponibili ai commercianti e ai residenti. Decisioni queste adottate a termine della lunga riunione a porte chiuse a Palazzo del Carmine che ha visto coinvolte le forze politiche di maggioranza del PD, UDC e Polo Civico Cives 3.0, i dirigenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Comandante dei Vigili Urbani Diego Peruga e gli Assessori della Giunta. Venire incontro alle esigenze delle attività commerciali e dei residenti attraverso incentivi che facilitano l'accesso alle attività e alle abitazioni è stato dunque l'obiettivo da raggiungere. Si tratta di iniziative che nei prossimi giorni, assicura il primo cittadino, verranno comunicate agli esercenti e ai residenti della piazza in un incontro a Palazzo del Carmine. Abbiamo individuato delle soluzioni, soprattutto appunto come facilitazioni per i residenti e per i commercianti. A breve io incontrerò le organizzazioni di categoria proprio per condividere con loro queste iniziative. È possibile ancora già da adesso parcheggiare gratuitamente, per esempio nel parcheggio via Medaglia d'Oro, per i primi 15 minuti. Quindi chi deve utilizzare quell'area può beneficiare del parcheggio senza pagare nulla, ma anche in questo cercheremo di incentivare le aree di sosta gratuite proprio per agevolare il parcheggio per chi deve fare acquisti veloci. A breve allestiremo uno stand per i residenti che vogliono richiedere il pass e la Polizia Municipale si attiverà proprio per consentire ai residenti di non recarsi al comando di Polizia Municipale, ma di utilizzare un posto che probabilmente sarà un gazebo o un posto fisso presso i locali comunali proprio per accogliere le istanze di pass per i residenti. Pareri unanimi quelli dei capogruppo dei partiti di maggioranza presenti all'incontro, durante il quale hanno ribadito quanto sia importante che il centro storico della città rimanga zona pedonale. L'obiettivo principale è sempre quello, quindi della chiusura del centro storico. Evidentemente arriveremo per step. Stiamo facendo una sperimentazione in questo momento con la ZTL. Questa sera quindi si è deciso di procedere per questa strada, mantenendo magari in questo momento ancora la ZTL per quanto riguarda la parte alta di Corso Vittoria Emanuele, quindi dalla parte di via Berengario Gaetani fino alla piazza, per arrivare poi magari in estate alla chiusura di questo tratto di strada, quindi di Corso Vittoria Emanuele fino alla piazza Garibaldi. Per quanto riguarda piazza Garibaldi siamo tutti unanimi proprio per la chiusura davanti alla cattedrale. Questo diciamo si è deciso questa sera. Grazie. Grazie. Grazie.